Dobbiamo costruire un'Unione Europea della sanità più forte. Il momento per farlo è adesso. Queste le parole della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante il suo primo discorso sullo Stato dell'Unione. E con il mondo ancora alle prese con la pandemia i tempi sembrerebbero maturi. Alla base dell'idea dell'Unione Europea della Salute c'è l'obiettivo di rafforzare le agenzie per i farmaci e il controllo delle malattie. E c'è poi anche l'ambizione di migliorare la capacità dell'Europa di rispondere a qualsiasi futura crisi sanitaria. Costruiremo un BARD europeo, un'agenzia per la ricerca e lo sviluppo biomedico. Questa agenzia supporterà la nostra reattività e capacità di rispondere a minacce esterne e permetterà di dare delle risposte coordinate a potenziali nuove emergenze provocate da cause naturali o dolose. Al momento l'Agenzia Europea dei Medicinali ha una semplice funzione di controllo e autorizzazione dei medicinali all'interno dell'Unione. Credo che dobbiamo costruire un organismo di salute pubblica più grande e che possa dare risposte e aiuti rapidi agli stati membri che al momento non abbiamo. L'Unione Europea della salute pubblica ha tra i suoi obiettivi concreti creare delle riserve di farmaci, di ospedali da campo e la libera circolazione dei pazienti. Tutte cose che esistono già, ma che meriterebbero una struttura formale e non improvvisata. Credo che in questa fase vada data grande priorità alla condivisione delle scoperte scientifiche e dei dati che abbiamo già a disposizione nei centri di ricerca. Insieme possiamo sconfiggere gli interessi puramente economici delle grandi aziende farmaceutiche. Von der Leyen è tornata a chiedere a gran voce supporto per il programma da quasi 10 miliardi di euro di EU for Health, ovvero l'Unione Europea per la salute, clamorosamente bocciato dal Consiglio europeo. Dobbiamo rendere il nostro nuovo programma EU for Health praticabile e per questo ho proposto di aumentare i fondi e sono grata a questo Parlamento che sta navigando nella stessa direzione, per porre rimedio ai tagli attuati dal Consiglio europeo. Il piano della Presidente della Commissione europea troverà non pochi ostacoli nazionali nel suo iter, ma considerando i tempi che corrono, sembra avere qualche chance.